ciao a tutti ragazzi riaccomi qua sono megaticker e quest'oggi solo a fare un video un po particolare un po particolare sì perché non vedrete un unboxing fatto dal sottoscritto ma vedrete l'unboxing fatto da un mio caro amico esau ciao daniele che è sorpreso un paio di cuffie anzi mi ha fatto conoscere un paio di cuffie che sono veramente interessanti ebbene sì io non ho potuto noi nell'immediato non riesco a comprarle ad averle e quindi ho detto ma dai esa fammi un unboxing te ti metto sul mio canale tanto sicuramente prenderà tutti i miei follower e se li trasfererà nel suo qualora lo aprisse perché ha fatto un ottimo lavoro considerate è il primo unboxing di cosa stiamo parlando comunque audisi ha fatto un paio di cuffie dedicate alla next gen playstation 5 e alla next gen xbox sono in due versioni queste che andremo a vedere sono quelle dedicate alla playstation 5 cuffie veramente interessanti padiglioni magnetoplanari quindi non a membrana classica io ho già avuto qualche feedback calaui ma aspetteremo poi magari la sua recensione per adesso andiamo a vederci insieme questo unboxing e poi come al solito nei commenti lasciatemi le vostre impressioni ciao tutti ragazzi sono esau volevo ringraziare principalmente il mio amico megaticker per avermi ospitato nel suo canale quello che andrò a fare oggi è l'unboxing di queste cuffie che aspettavo da tantissimo tempo infatti non vedo l'ora proprio di di unboxarle più che altro sono stato spinto da questa cosa perché ho visto che è ancora in italia nessuno ha fatto recensioni o unboxing in italiano per quanto riguarda queste cuffie che spero che siano all'altezza del del nome per chi non lo sapesse audis è un'azienda che ha brevettato una tipologia di padiglioni quindi non solo i classici padiglioni con membrana vibrante ma magneto planare il che dovrebbero risultare comunque una una figata sostanzialmente quindi io procederei e vedere insieme a voi dire in diretta come si presenta la confezione ok in questo video io parlerò per adesso soltanto del primo approccio oggettivo nel senso per quanto riguarda i materiali come sono fatte le varie funzioni cosa è qualche comunque vi dicevo per quanto riguarda il magneto planare e questa tecnologia molto molto particolare andiamo ad aprire ok ok si presenta con un po di cartoncino molto carino direi varie garanzie in diverse lingue o la cosa bella particolare che a quanto vedo hanno un app quindi teoricamente non dovremmo essere obbligati ad avere l'applicazione su pc quindi col cellulare tranquillamente potremmo fare il settaggio dell'equalizzazione eccetera un bel adesivino qua abbiamo la nostra chiavetta con il logo particolarità di questa chiavetta che è una chiavetta da 4,2 gigahertz quindi abbassa latenza dovrebbe riuscire ad avere una connessione stabile da quel punto di vista e adesso andiamo a lasciamo per ultimo vediamo se c'è altro sotto calvo d'alimentazione che il jack da tre e mezzo che si possono collegare o cellulare a parte che comunque hanno doppia connessione sia bluetooth che wireless usb c quindi come tipologia un po di cavetti e poi la cosa molto molto figa ecco guarda il microfono si può staccare oltretutto abbiamo una spugnetta giusto per attutire magari il tono della voce devo dire che al tatto sono veramente belle sono morbide materiali si vedono che sono di qualità anche nelle plastiche quindi vagono quello che costano costicchiano un po però spero che almeno la resa sia veramente buona ok qua abbiamo il cuscinetto per quanto riguarda l'imbottitura a baionetto che scorre sul carrellino per quanto riguarda l'alloggiamento ecco ovviamente si possono mettere di piano in modo che magari dovessi togliere le cuffie per riposare un pochettino le orecchie le possono lasciare intorno al collo tranquillamente qua abbiamo il microfonino che riusciamo comunque a collocare qua ci sono due rotelline uno per chat cioè per il microfono e uno invece per l'audio auricolare quindi presumo che si riescano a regolare non so se si possa regolare la chat nel senso aumentare o meno il volume dei compagni di gioco il mute è qua sul paviglione sinistro è molto comodo di conseguenza facile da raggiungere basta abbassarlo subito per mettere il mute questi due pulsantini non vedo altre tipologie queste per la connessione per la ricarica e questo tastino non so sinceramente cosa sia andremo a vedere all'interno c'è right left uno dovesse mai sapere come vanno montate proviamo ad accendere vediamo un attimino come avete sentito la voce molto molto sensuale power on per quanto riguarda i materiali sono veramente veramente validi e anche l'imbottitura memory float appunto similpelle è comoda provo un attimino a indossarle perché allora ho avuto dei problemi con la tipologia di cuffie perché portando gli occhiali quando gioco mi comprimevano troppo e di conseguenza voglio vedere un attimo come sono è un qualcosa che non vi non vi so dire ho goduto subito soltanto mettendole per quanto riguarda l'unboxing spero che vi sia piaciuto è un mio primo unboxing sinceramente quindi passatemi magari ancora la poca esperienza per adesso è tutto non appena le avrò usate visto un po di settaggi tutto il resto vi farò sapere ciao ciao a tutti rieccoci qua ragazzi allora avete visto queste cuffie queste pen rose cosa ne pensate a me hanno incuriosito veramente tanto sono andato su amazon quasi per comprarli mi ero quasi deciso ho detto così poi le tasto con le mie manine e vedo un po come sono non le ho più trovate non so quando torneranno disponibili ad ogni modo in descrizione lascio sempre i link qualora tornassero li aggiorno nel tempo dateci un occhio come date un occhio alle descrizioni perché ci sono degli indirizzi di alcuni youtuber miei amici che vorrei sottoporvi che stanno cercando di emergere fateci un saltino e ci sono anche gli indirizzi dei miei gruppi facebook instagram dove magari riusciamo ad avere un po più contatto l'un con l'altra se vi interessa grazie per questo video è tutto ringrazio ancora esau grazie mille sei stato veramente un grande e disponibilissimo ci vediamo alla prossima qua i megatikere ciao